Gentili telespettatori, buona giornata. L'annuncio di Arianna Meloni. Io e Lollo Brigida ci siamo lasciati. Dice per lui farei qualsiasi cosa, ma l'amore è un'altra cosa. Lo conferma al foglio, il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono solidi. Quindi basta con la curiosità morbosa. E così la sorella maggiore della premier Giorgia Meloni e il ministro dell'agricoltura Francesco Lollo Brigida sarebbero da tempo separati in casa. Arianna l'ha confermato in una dichiarazione al foglio. Dice sì, è vero, non stiamo più insieme da un po'. Per lui farei qualsiasi cosa, come si dice a Roma, ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatta, uno è in grado di lavorare 500 ore al giorno, è una persona solida, onesta, con una grande preparazione. Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi dice l'amore è un'altra cosa. L'affetto e la stima rimangono intatti, per ora è così, e visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa grazie. Lei dice, la finirei qui, però ha raccontato i fatti suoi personali che poteva anche non raccontare. Ma sul di lei c'erano già state delle polemiche nelle settimane precedenti, e su quella presunta inchiesta detta, raccontata da Sallusti, dice, nessuno si paragona a un grande statista come Berlusconi, va bene le accuse di mitomania che traspaiono dal racconto che si fa di me, ma pietà, ho un senso della misura, la cosa che ha scritto Sallusti prendeva spunto dal libro e dalle dichiarazioni di Luca Palamara, già membro del CSM, su un metodo che evidentemente esisteva, e non so se esiste ancora, speriamo di no, certo, e poi figuriamoci, provo a dirlo bene, lungi da me attaccare la magistratura, l'attacco semmai è nei confronti di un certo giornalismo che mi ha tirato in ballo di continuo, stiamo imparando a camminare su un ponte tibetano, ma ovviamente non sulle acque, tutti danno il massimo e per primi mia sorella e Lollo, le due persone che conosco meglio di tutti, attaccati spesso con violenza incredibile, penso proprio a Lollo che invece sta facendo un lavoro straordinario, e poi commenta anche le voci sulle nomine, quelle cose, dice io mi occupo solo del partito e non di mettere bocca su quanto riguarda Palazzo Chigi e Larai, e neppure di vivere la vita mondana di Roma, e aggiunge, ovviamente faccio politica a Roma da una vita, conosco davvero tante persone da molto tempo a destra, che è il mio mondo come a sinistra, c'è anche il riferimento poi a un'altra voce, cioè quella di una presunta amicizia con Stefano De Martino, e aggiunge, quando era dal parrucchiere e le è stato chiesto conto dello showman della Rai, peccato che io manco lo conosca De Martino, e se lo conoscessi comunque gli avrei al massimo proposto di presentare un panel a una Kermess di Fratelli d'Italia, quindi stesso tenore di risposte anche per quanto riguarda la seconda voce circolata, il suo rapporto con Giuseppina di Foggia, manager di Terna, Arianna Meloni racconta al foglio di averla incontrata due volte solo dopo che le voci erano già uscite, e di aver ironizzato con lei sul loro rapporto da migliori amiche. e secondo un quotidiano Fratelli d'Italia starebbe per lanciare una scuola di formazione per dirigenti e a guidarla sarà Fabio Rampelli, e aggiunge quello che in molti non vogliono capire è che al contrario di altre formazioni politiche, noi non vogliamo lasciare sguarnito il partito e chiuderci nel palazzo mossi solo dalle tantissime cose che ci sono da fare al governo, siamo radicati, siamo presenti in tutti i comuni d'Italia, abbiamo una comunità forte e coesa e dunque una responsabilità, lo scorso anno abbiamo celebrato una stagione congressuale, posso occuparmi di questo invece di passare per traffichina e mitomane, chiede Arianna che il prossimo anno compierà 50 anni e il giornalista chiede ma come si immagina quel giorno, dice continuerà a fare la militante dei Fratelli d'Italia, né più né meno, niente di strano, niente di particolare. Beh, poi vedremo in un altro video che la sinistra si è sentita in dovere di commentare quello che ha detto Arianna Meloni, cioè io e Lollo Brigida ci siamo lasciati. Beh, insomma, abbiamo visto l'anno scorso la Meloni si è lasciata con Gian Bruno dopo che uscirono quei video, ma da quello che si capisce i video sono stati solo la ciliegina, c'era già un qualcosa che non andava bene da tempo, come nel caso di Arianna Meloni e Francesco Lollo Brigida. Sarà il potere che porta a acuire queste cose, a farle saltar fuori, a farle finire definitivamente, magari in un contesto meno esposto sarebbero andate avanti tutte e due le coppie, come spesso succede a molti. Chi lo sa? Insomma, sta di fatto che quando si è sotto i riflettori tutto viene raccontato, tutto viene a galla. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te. Poi questi video sono condivisi anche su Facebook nella pagina Luca Vincitore. Trovate proprio col mio nome e cognome una pagina con questi video, in modo che poi, se siete interessati, vi sono piaciuti, li potete anche condividere sulle vostre pagine di Facebook. Grazie nuovamente e buona giornata a tutti.